Nella lezione scorsa, parlando di Galilei, vi proponevo di intendere l'interfaccia scienza-filosofia nell'età moderna con questa locuzione sintetica che ci aiuta a capire qual è il problema, cioè la scienza intesa come il canone sperimentale della ragione moderna, intendendo sperimentale in maniera forte, cioè ritornando a comprendere il ruolo centrale dell'esperienza. Ma l'esperienza non va intesa semplicemente come un'applicazione empirico-sperimentale della ricerca scientifica, ma va intesa in maniera più profonda come la scoperta che la ragione umana è un'attività performativa. Ne abbiamo già parlato nelle lezioni introduttive, no? Cioè la ragione umana performa la verità, non semplicemente la riconosce, la deduce, ma per così dire la produce, ma la produce non dal nulla, no? Questo sarebbe impensabile che la nostra ragione, che continua ad essere naturalmente una ragione finita, limitata, possa produrre assolutamente il vero, no? Però lo performa, ieri leggevamo che proprio per risolvere il dissidio tra verità della natura e verità della rivelazione, Galilei diceva che la rivelazione biblica, la rivelazione storica appunto di Dio, è relativa al tempo e allo spazio, mentre la rivelazione di Dio nella natura è di una verità assoluta, cioè immutabile, no? Grazie alla matematica, ok? Non si può dire che la mente umana produca essa stessa questa verità assoluta, perché, come abbiamo visto, almeno in Galilei, la matematica non è semplicemente una nostra, uno strumento di conoscenza nostro, ma è l'ontologia della stessa realtà. E tuttavia la mente umana diventa veramente uno spazio in cui si performa la verità. D'altra parte questo, ragazzi, non ci deve tanto stupire, no? Perché anche in tutta la filosofia scolastica, o in gran parte della filosofia scolastica, quella contro la quale si dice, ha ragione ma non in maniera assoluta, contro la quale sarebbe nata la filosofia moderna, aveva proposto un concetto di verità che sta alla base anche di questa svolta della scienza e della filosofia moderna. La verità come, forse ve lo ricorderete, scriviamolo in latino, veritas est adequatio intellectus et rei la verità è un'adeguazione, una corrispondenza, un incontro, un incastro, dicevamo, dei pezzi del meccanismo, dell'intelletto e della cosa. Una delle formulazioni canoniche, noi lo troviamo sicuramente non in un autore moderno, ma in un autore medievale, in Tommaso d'Aquino, nella sua opera De Veritate. Che cosa vuol dire? Che la verità implica sempre il lavoro dell'intelletto. Senza un essere intelligente non ci sarebbe verità, ci sarebbero le cose. E infatti Tommaso diceva, e con lui diversi altri dopo di lui, che la verità è un trascendentale. Questo ci farà comodo quando arriveremo a Kant. Ma non trascendentale nel senso di Kant. È un, diciamolo, usiamo la parola latina che loro usavano, la verità è un trascendentale. È un participio, però in forma sostantivale, che si traduce, non trascendente, quindi non c'entra niente con il Dio trascendente, no? La parola trascendence si traduce correttamente in italiano con trascendentale. E che cosa vuol dire trascendence? Trascendence vuol dire che è una, la verità, ma non solo la verità, anche l'unità, anche la bontà, sono caratteri che ritroviamo in tutto ciò che c'è. Cioè, quindi, sono dimensioni costitutive dell'essere. Ok? E perché le chiama trascendence? E, ragazzi, scrivete queste cose, però, non guardatevi semplicemente statici, perché poi sono cose che dovete andare a riprendere, altrimenti scivolano sulla vostra mente. Invece bisogna lavorarci su. Si chiamano trascendence perché trascendono che cosa? Le categorie. Le categorie di Aristotele. No? Sostanza, qualità, relazione, il modo, il luogo. Cioè, queste nozioni non sono delle categorie, ma sono metacategoriali, cioè, ogni qualvolta noi collochiamo ciò che esiste e lo predichiamo categorialmente in una delle, per esempio, dieci categorie di Aristotele, no? Implichiamo sempre anche questi trascendenzia, cioè questi trascendentali. l'uno, il vero e il buono. Ma adesso fermiamoci al vero. Tommaso si pone questa domanda, il vero e l'ente dicono la stessa cosa? e lui dice per quanto l'ente abbia come dimensione il vero, non dicono la stessa cosa. Perché? Perché l'ente ens dice ciò che c'è, mentre verum dice, è interessantissimo, il rapporto di ciò che c'è con il nostro intelletto. No intelletto, no vero, si direbbe, no? Se manca un intelletto, le cose ci sono anche, ma sono vere le cose, mai indipendentemente dall'intelletto, capite? Questo non vuol dire che sia l'intelletto che costruisce la verità, ma è lo spazio di apertura. Tant'è vero che per Tommaso d'Aquino l'intellectus è sia divino che umano. Innanzitutto è l'intelletto di Dio che dà una sponda perché emerga il vero e poi anche naturalmente quello umano nel corso dei secoli e poi soprattutto nella filosofia moderna è l'intelletto umano soprattutto, no? Ma in Galilei per esempio sono tutte e due, in Leibniz sono tutte e due, in Spinoza sono tutte e due, quello divino e quello umano. Chiudiamo questa parentesi, molto hard come parentesi, però vi prego le parentesi che io apro, ma lo dico per il vostro lavoro, ci dovete lavorare poi su, cioè non le dico tanto per dire o per diciamo chiacchierare con voi di altre cose, perché sono strumenti che poi aiutano a capire i passi che stiamo facendo. Quindi da sempre in filosofia, torniamo alla nostra filosofia moderna, la verità richiede l'uso dell'intelletto e l'esperienza è proprio la performatività della ragione che fa accadere quello che pensa, cioè dà a quello alla realtà la condizione per poter essere conosciuta. Per questo esperienza non è solo l'esperimento, non è solo l'elaborazione dei dati, le sensate esperienze, ma è anche l'esperienza del pensiero. Anche il pensiero, è interessantissima questa, è un'esperienza. Cioè il pensiero non è una pensata che tu ti chiudi nella tua stanza e vai, fai, scateni la tua mente, quella appunto è i tuoi giochi dell'immaginazione, della fantasia, stupendi, meravigliosi, ma il pensiero è qualche cosa di più radicale, no? Il pensiero, provate a pensare, appunto, il pensiero è il nostro modo di stare al mondo, di alzarci la mattina, di bere il latte e caffè, alcuni il tè, il pensiero c'entra con quello, perché il pensiero vuol dire che tu entri in rapporto con le cose avendone consapevolezza. e anche se non hai sempre consapevolezza quando nel gesto, nell'uso quotidiano delle cose e tuttavia le puoi usare perché ci sei tu con il tuo pensiero. Allora l'esperienza di pensiero più decisiva per la filosofia moderna è appunto più decisiva poi vedremo perché è una delle più decisive è senza dubbio l'esperienza di un autore che cominciamo oggi cioè Cartesio René Descartes e infatti colgo l'occasione ogni tanto vi do anche delle indicazioni bibliografiche per segnalarvi naturalmente non serve per fare l'esame cioè o meglio servirebbe per fare l'esame ma non è richiesto per fare l'esame quindi non vi preoccupate però è giusto che voi sappiate che ci sono anche questi strumenti che potete trovare in biblioteca questo è il numero abbastanza voluminoso di una rivista di filosofia internazionale che si chiama che si chiama questio quindi composto di articoli di colleghi a livello mondiale e diciamo in diverse lingue ogni numero ha un tema monografico e nel 2004 quindi ahimè vent'anni fa è uscito questo numero intitolato l'esperienza in quattro lingue l'experienza l'experience di erfaring experience no? perché ci sono quattro lingue diciamo come lingue dei saggi e in particolare quindi da per darvi un'idea è tutta la storia dell'esperienza no? da il primo saggio di un autore del Texas che si che è in inglese che arte ed esperienza filosofia greca è lo statuto della medicina oppure più giù l'esperienza nella filosofia araba classica fino fino alla all'esperienza in Husser nella fenomenologia nella filosofia spagnola del novecento nella filosofia ebraica del ventesimo secolo e uno di questi saggi dovuto a due cari amici anche professori adesso ormai in pensione dell'Università di Lecce si intitola Philosophé Medité l'experience philosophique chez Descartes filosofare meditare è in francese ma si legge no? ragazzi mi raccomando non è che dite no non ho mai studiato francese vai ci sbatti un po' la testa e capisci ti fai aiutare usi Google usi Deep cioè non potete fermarvi il mondo vi aspetta quindi allora filosofare meditare l'esperienza filosofica in Descartes in Descartes in Cartesio ed è molto interessante questo per chi volesse approfondire o se vi dovesse servire quando farete la tesi sappiate che c'è lo trovate in biblioteca insieme a tutti gli altri 23 perché uno sono già usciti 23 volumi adesso sto uscendo sto curando proprio adesso quello del 24 e potete anche vedere tra l'altro si vedono perché sono presenti in un armadio a vetri subito prima della sala riunioni no? e potete anche vederli passando tutti i temi che sono stati trattati è molto importante perché fa capire come Cartesio stesso è uno che ha inteso la filosofia come un'esperienza infatti se dovessi dire in che cosa consiste la la cifra del pensiero cartesiano io direi così che è un pensiero in prima persona in cui non soltanto chi scrive un testo è uno è un autore no? ma in cui egli scrive di sé come lo troverete appunto nel capitolo che comincia pagina 128 del manuale appunto intitolato René Descartes come una volta lui ha scritto io ho deciso di scrivere la storia della mia vita ma cosa vuol dire questo? non era un romanziere sebbene il francese di di Cartesio la sua lingua sia di un nitore meraviglioso e di un'intensità stupenda no? lui scrive in latino ma poi anche tradotto in francese non perché scriva un suo diario personale no? allora cosa vuol dire che una filosofia in prima persona? che egli vuol fare filosofia non più partendo dalle autoritates cioè dalle autorità della tradizione ma vuole descrivere quello che egli afferra concepisce e impresa diretta nella sua esperienza di pensiero quindi parla di sé non nel senso che dice i fatti suoi agli altri a dire il vero nel discorso sul metodo dice anche i fatti suoi lo vedremo tra un attimo dove ha studiato che cosa ha studiato come è andata il collegio gesuita di La Flesce dove andava perché era insoddisfatto perché a un certo punto partì per scoprire il mondo perché a un certo punto si arruolò due volte come soldato in due eserciti a prestare come una professione no? che cosa scoprì in una certa stanza riscaldata no? mentre fuori era inverno e si sentiva in lontananza il clamore della della guerra cioè dice anche da anche in maniera molto vivida delle pennellate biografiche ma non perché vuole fare un memoir della sua vita ma perché vuole indicare un metodo per fare filosofia il metodo è una un esercizio controllato dei propri pensieri in cui passo passo un esercizio controllato dei propri pensieri in cui passo passo si possa guadagnare il cammino alla verità e leggiamo agli ultimi righi della prima colonna di pagina 129 dice tratto dal discorso sul metodo 1637 scrive il mio scopo qui non è di insegnare il metodo che ciascuno deve seguire per ben condurre la propria ragione ma solamente di far vedere in quale maniera ho cercato di condurre la mia ragione coloro che si prendono la briga di dare dei precetti agli altri devono considerarsi più abili di coloro ai quali li danno e se mancano della più piccola cosa sono da biasimare cioè non mi ritengo in questo momento superiore a voi tanto che io vi posso dare dei precetti perché voi possiate sviluppare il vostro pensiero ma proponendo questo scritto semplicemente come una storia o se preferite come una favola nella quale insieme ad alcuni esempi che si possono imitare se ne troveranno forse molti altri che si avrà ragione di non seguire perché sono le scelte personali fatte da lui spero che esso sarà utile a qualcuno senza essere nocivo a nessuno e che tutti mi saranno grati della mia franchezza è il 600 è la prosa del 600 francese meravigliosa anche nell'arte retorica ma che cosa vuol dire in questa politezza stilistica straordinaria vuol dire il mio intento che poi è un intento molto molto è una pretesa molto grande anche se sembra essere una cosa una cosa da niente no il mio intento non è di darvi dei precetti perché perché se vi dessi dei precetti sarebbero ancora una auctoritas no cioè dei precetti generali che uno deve applicare invece si tratta di scoprire che ciascuno possa scoprire le verità filosofiche non prenderle come già date è tutta qui la modernità di Cartesio che ciascuno possa scoprirle ma naturalmente non è che precedentemente non si facesse questo tutte le scuole medievali tutta la filosofia scolastica ha costituito un esempio diciamo serratissimo rigorosissimo di discussione teorica no di giustificazione della delle verità e dei principi della filosofia ma lo vedremo perché tra un attimo e gli preferisce che sia la ragione umana stessa a scoprire il vero e e quindi io non vi dico vi dico come ho fatto io perché mi imitiate no perché ciascuno di voi possa scoprire la strada quindi il mio è come fosse un esempio ok naturalmente qui c'è un po' di retorica perché quando lui poi almeno comincerà nel discorso sul metodo a e già prima in un'altra opera pubblicata solo postuma le regole per ben dirigere il nostro ingegno regole ad direzione ingenio le regole per pensare sarebbe no per usare bene l'intelletto arriva a dire che ciascuno può scoprire in sé l'unica strada che è appunto quella della matematica poi vedremo che non basta la matematica a cartesio farà colpo di scena un passo ulteriore ma tempo al tempo a cartesio dedicheremo tre lezioni quindi non dobbiamo dire tutto oggi sarebbe impossibile quindi dire che ciascuno deve scoprire la sua strada non è non ha niente a che fare con quel buon senso domestico no in cui la zia la nonna dice sì figlio mio figlia mia devi ciascuno ha la sua strada devi capire cosa fare nella vita no no zero non c'entra niente con questo ciascuno deve scoprire la sua strada ma non vuol dire che ciascuno ha una strada diversa ciascuno avrà una strada diversa nel suo comportamento nelle sue scelte morali no nei suoi gusti sensibili culturali no ma se si parla della strada per raggiungere la verità è unica è strano la strada è unica ma ciascuno la deve scoprire capite è unica non perché è un canone già già codificato semplicemente da applicare ma perché la strada è un'esperienza di pensiero che ciascuno deve fare e infatti sia il discorso sul metodo 1637 sia che poi è questo qui per esempio in italiano ma noi leggeremo qualcosa dalle pagine finali dei percorsi tematici sia le meditazioni metafisiche che in realtà si intitolano esattamente meditazioni di filosofia prima 1641 sono presentate da Cartesio come la sua esperienza di pensiero nel discorso sul metodo parlerà dicevo prima e lo rivedremo tra un attimo della sua del suo percorso addirittura del suo piano di studi no al collegio nelle meditazioni ed è di questo che parla quel articolo dei due autori leccesi di cui forse non vi ho detto il nome Giulia Belgioioso e Franco Meschini le meditazioni di filosofia prima vengono addirittura presentate non in capitoli ma in giornate infatti la seconda meditazione comincia dicendo quello che ho pensato ieri non quello che ho pensato nel capitolo precedente no proprio a dire che è una meditazione secondo questi autori è una meditazione che ricalca addirittura gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola cioè la pratica meditativa dei gesuiti da cui lui ha studiato no c'è questo percorso interiore in cui la mente diventa un paesaggio un campo no qualcosa un paesaggio mentale un mindscape che è molto più ampio e profondo del landscape del paesaggio naturale perché trovi nella mente la verità di ciò che è fuori della mente quindi è un'unica via che ciascuno però deve performare per dire che è la capacità della stessa ragione umana a farci raggiungere il vero il discorso sul metodo come leggerete nella prima colonna di pagina 131 e è un librino guardate quanto è piccolino e qui tra l'altro c'è anche una lunga introduzione del curatore italiano ma sono ovviamente poche pagine ed è un'opera che diciamo perché si scrive a filosofia e fa filosofia almeno qualche pagina la deve leggere allora non dico che dovete comprarvi il discorso sul metodo perché no magari capiterà però anche un giorno che andate in biblioteca e l'ordinate vi sedete per un'ora per mezz'ora e lo sfogliate lo leggete anche random per capire no non perché non vi dobbiate fidare di me fidatemi no perché io l'ho scoperto facendo quello quindi analogamente quello che dice Cartesio anche voi dovete scoprirlo naturalmente con calma non è che uno deve scoprire subito al primo anno ai primi tre anni tutto no però se hai l'occasione soprattutto se uno dice ah questo mi interessa quell'altro un po' di meno va benissimo seguite le vostre preferenze però seguitele perché altrimenti potreste anche laurearvi in filosofia e poi andare ad insegnare e poi fare i giornalisti fare quello che volete fare i concorsi e per tutta la vita non avrei mai aperto un libro di Cartesio non va bene lo capite che non va bene non perché si deve fare ma perché anche il vostro percorso ragazzi è un'esperienza di pensiero quindi la dovete fare allora questa operetta fu scritta da Cartesio come qui accenno nel primo pezzo di pagina 131 come introduzione a tre saggi scientifici perché colpo di scena ecco qui Cartesio era innanzitutto uno scienziato e questi tre saggi come è citato erano la diottrica le meteore e la geometria e che lui però non pubblicò perché perché nel frattempo gli era arrivata notizia vedete come le cose si tengono della condanna di Galileo ed essendo a differenza di Galileo Descartes una persona anche diciamo come profilo personale estremamente cauta preferì in qualche maniera nascondersi ma pubblicò questo breve saggio saggetto di epistemologia in cui lo scienziato prima di pubblicare i contributi alle scienze di cui si occupa tecnici fa un discorso preliminare epistemologico cioè dice quali sono i principi che validano cioè giustificano la esattezza dei miei discorsi scientifici o per meglio dire quali sono le condizioni di verità per cui la scienza è una conoscenza certa questo essere insieme filosofo e metafisico perché infatti nel 1641 egli fa un'opera di metafisica le meditazioni di filosofia prima dette anche appunto meditazioni metafisiche però è proprio nell'interfaccia sempre l'interfaccia ritorna non vorrei abusare di questo termine è sempre nell'implicazione in cartesio di lavoro scientifico come scienziato lavoro epistemologico cioè come un teorico delle condizioni della scienza è lavoro metafisico cioè uno che vuole dare un fondamento incontrovertibile al sapere vanno tenuti insieme tutto il resto cerchiamo di scoprirlo dalle sue parole allora adesso andiamo a pagina 616 e leggiamo l'inizio del discorso sul metodo perché è uno dei luoghi topici della filosofia moderna quindi non possiamo bypassarlo sentite cosa dice anzi leggiamo vedete ci siete bene il buon senso il buon senso è il francese è proprio le bon sens il buon senso come l'italiano è a questo mondo la cosa meglio distribuita ognuno pensa di esserne così ben provvisto che anche i più incontentabili sotto ogni altro rispetto di solito non ne desiderano di più cioè tutti abbiamo un buon senso no tant'è vero che anche nel nostro linguaggio quotidiano quando con qualcuno entriamo in discussione in conflitto rispetto a certe soluzioni diciamo scusami ma usa il buon senso cioè ti sta chiedendo unicamente di dire una cosa che è ragionevole no cioè che tutti riconoscono dovrebbero riconoscere facilmente non è verosimile che tutti si ingannino su questo punto la cosa piuttosto sembra attestare che il poter giudicare rettamente discernendo il vero dal falso ossia ciò che propriamente si chiama buon senso o ragione è naturalmente uguale in tutti gli uomini questo è il presupposto antropo epistemologico antropologico epistemologico di cartesio no il buon senso che appunto qui lui identifica senz'altro con la ragione e le bon sens o la raison e ne dà già una definizione il buon senso la ragione è questa appena letto questa questo potere e proprio dice la puissance e il potere ma potere va inteso questa facoltà questo è questa capacità la capacità e il potere di di giudicare rettamente discernendo il vero dal falso quindi qui abbiamo una prima definizione di ragione no come pratica della nostra mente la ragione è capacità di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso e questo sarebbe il giudizio il retto giudizio ok senza tanti giri e se una cosa è vera non è falsa e non ci possono essere su una certa cosa due diverse verità la verità è unica ok e naturalmente uno può dire a Cartesio si ma ciascuno di noi la pensa diversamente naturalmente ma quella non è la verità quella è l'opinione cioè quella è la tua approssimazione al mondo è la tua visione del mondo no tu puoi essere un credente o un ateo tu puoi essere buono o cattivo tu puoi essere avaro o generoso no e di volta in volta diciamo applicherai questa tua percorrerai queste tue prospettive queste tue preferenze queste tue visioni in maniera più o meno legittima no date certe ma quando parliamo di verità parliamo di qualche cosa che è assolutamente vero che è incerto che è incontrovertibile quindi non ha a che fare con la diversità delle opinioni bene la cosa più interessante che dice è quello che abbiamo l'ultima cosa letta che questa capacità è naturalmente uguale in tutti gli uomini cioè per natura noi siamo capaci della verità siamo capaci di giudicare non perché l'ha detto Aristotele non perché l'ha detto Platone no ma perché ciascuno nella pratica della sua intelligenza lo può capire ciascuno di noi lo sa per esperienza per esperienza sappiamo che siamo capaci del vero naturalmente quel naturalment quel naturalmente è importantissimo e innanzitutto perché qui vediamo che cosa vediamo un contromodello rispetto a a Lutero vi ricordate Lutero diceva che dopo la caduta la nostra natura non è più capace di cogliere la verità non è più capace di essere libera non è più capace di Dio perché è troppo sfigurata originariamente lo era prima della caduta quando era una natura la chiamano i teologi integra ma quando diventa una natura lapsa lassa cioè decaduta indebolita non è più capace qui invece abbiamo un'altra riferimento no e cioè che la natura è positivamente la natura umana cioè la natura dotata di ragione di intelligenza di cogliere il vero andiamo avanti sì che la diversità delle nostre opinioni non deriva dall'essere gli uni più ragionevoli degli altri ma solo dalle vie diverse che seguiamo nel pensare e dalla diversità delle cose considerate da ciascuno dice ciò nonostante vediamo che normalmente succede al contrario raramente siamo tutti d'accordo no raramente possiamo dire questa è la verità condivisa come mai perché usiamo male la nostra ragione infatti dice infatti non basta un bell'ingegno l'essenziale è farne buon uso questo lo sappiamo tutti ragazzi cioè non basta avere una dotazione naturale la devi usare bene se tu ne abusi o la usi al di sotto delle sue possibilità è come se non ce l'avessi è come se tu avessi una Ferrari testa rossa meravigliosa e e vai a fare lo shopping andando a 25 all'ora vale la pena no oppure è come se tu avessi una Ferrari e diciamo per fare il figo e dai gas no prima di partire il rombo no e però poi non ingrani mai la marcia e il non usare il non sapere usare correttamente il potere che hai no e quindi questo è proprio è proprio lo spirito di quello che noi chiamiamo filosofia moderna chiaro che Cartesio non dice io sono un filosofo moderno no dice io voglio fare qualcosa di nuovo rispetto alla scolastica e quindi è come se lo dicesse no c'è dentro questa nella filosofia moderna in tutti i filosofi moderni sempre anche se non detto questo richiamo usa la tua ragione è bellissimo non non essere avaro con la tua stessa ragione ed è quello che negli anni 80 all'inizio degli anni 80 del 700 quindi più di un secolo dopo in una celeberrima saggio intitolato che cos'è il luminismo Kant scrisse dicendo se mi dovessero chiedere che cos'è il luminismo io risponderei con un invito in latino sapere aude che si traduce abbi il coraggio di conoscere di sapere come dire forza forza non impedire alla tua intelligenza di svilupparsi e Kant poi un secolo e mezzo dopo no non proprio e mezzo più di un secolo dopo sapere aude diceva questo da buon illuminista questo significa usare avere il coraggio di usare la propria intelligenza autonomamente cioè non seguendo i precetti del filosofo del prete del ministro del dell'educatore no che van bene per i bambini no di età o di spirito ma significa non essere diceva Kant non essere più minorenni arrivare alla maggiore età diventare maggiorenni come usando la ragione seguendo c'era anche una naturalmente una punta ideologica no da buon illuminista anche se gli illuministi tedeschi erano molto più moderati di quelli francesi no però adesso non mi interessa se ci potesse come potesse essere usata quello quello scritto no in maniera antireligiosa non è propriamente così ma non mi interessa mi interessa un'altra cosa più importante che da Cartesio a Kant e anche oltre fino a fino a alla alla filosofia classica tedesca fino a Hegel Fichte Schelling no c'è questa idea che la ragione non deve avere timore nella sviluppare le sue capacità come torniamo al nostro Cartesio infatti non basta ripeto un bell'ingegno l'essenziale è farne buon uso le anime più grandi sono capaci dei più grandi vizi come delle più grandi virtù e chi cammina molto piano seguendo la retta via può andare molto più in là di chi corre allontanandosene quindi questo è il metodo la retta via che la ragione deve percorrere e infatti già vi dicevo qualche volta fa che metodo significa cioè deriva da dal greco metà ta ta odos metà ta odos che vuol dire lungo il cammino lungo la via attraversando la via andando per una via e appunto quella che chiama la retta via questo è il metodo di usare la ragione saltiamo un capoverso e andiamo alla pagina successiva e siamo al rigo 18 i righi li trovate scritti sul margine sinistro ma fin da giovane non esito a dirlo penso di aver avuto la grande fortuna di imboccare delle strade che mi hanno condotto a considerazioni e massime da cui ho ricavato un metodo per mezzo del quale mi sembra di estendere gradualmente la mia conoscenza elevandola un po' alla volta e alle più alte vette concesse alla mia mediocre intelligenza e alla brevità della mia vita sì è una finzione retorica la mia mediocre intelligenza io non credo che lui si percepisse come mediocre ma ha un valore non solo letterario ma epistemologico cioè cosa vuol dire che i successi nella conoscenza non derivano perché il tuo quoziente di intelligenza è più alto di quello di un altro no perché quello lì è condiviso da tutti ma da come avrai saputo seguire la strada dal metodo è il metodo la chiave per arrivare alla al giusto successo della tua intrapresa tuttavia posso anche sbagliare forse prendo per oro e diamanti un po' di rame e vetro so quanto siamo soggetti ad ingannarci nelle cose che ci riguardano e come dobbiamo diffidare anche dei giudizi dei nostri amici quando ci sono favorevoli anche questo è un patos della scrittura tipica del seicento questa sorta di sentimento dolente per cui bisogna sempre considerare accanto alle luci le ombre ma forse mi sbaglio ma non per lasciarsi poi bloccare nell'insicurezza ma è dialettica la questione forse mi sbaglio ma allora verifichiamo meglio mi sto sbagliando quindi anche la dolente il dolente riconoscimento che posso sbagliarmi è una via per verificare la correttezza della strada ma con molto piacere mostrerò in questo discorso le vie che ho seguito e offrirò una sorta di quadro della mia vita perché ciascuno possa giudicarne perché io conoscendo le opinioni degli altri in proposito attraverso le risonanze che la cosa avrà in giro trovi in questo una nuova maniera per istruirmi da aggiungere ai mezzi di cui abitualmente mi servo allora torniamo torniamo a pagina ecco qui a pagina 129 no? allora lui passa a raccontare qual è stato il suo percorso di studio e dice anche che adesso non possiamo leggere tutto ma vi assicuro che lo dice che ero in una delle scuole più importanti d'Europa collegio gesuita di La Flesche in Francia e anche io da parte mia lo dice senza falsa modestia ho diciamo ho avuto dei brillanti risultati quindi diciamo aveva degli ottimi maestri e con ottimi risultati e sicuramente avrà avuto modo di studiare tra gli altri le disputazioni metafisiche di Suarez che era diciamo il libro di testo tra i più importanti per studiare metafisica nei collegi in tutta Europa e poi anche nel Nuovo Mondo anche nelle Americhe per studiare metafisica ma che cosa succede? succede quello che lui dice in poche righe alla fine di pagina 129 non appena ebbi compiuto tutto quel corso di studi alla conclusione del quale si è di solito accolti nel rango dei dotti cambiai completamente parere quale parere cambia? cioè il parere di aver raggiunto una formazione e una conoscenza vera delle cose che studiava tanto vera da poter essere da poter servire nella vita lo dice infatti nella frase che precede la citazione sempre tra virgolette l'aspettativa di guadagnare una conoscenza chiara e sicura di tutto ciò che serve nella vita cambiai completamente parere infatti continua mi trovai imbarazzato da tanti dubbi ed errori che mi parve di non aver tratto altro profitto dai miei tentativi di istruirmi che quello di aver scoperto sempre di più la mia ignoranza eppure era la scuola con il rating più alto d'Europa o tra i più alti d'Europa quindi se si voleva imparare secondo il canone diciamo scolastico vigente era il top e poi lui lo trovate le trovate appunto descritte un po' nella prima colonna di pagina 130 passa in rassegna anche le diverse discipline che insegnava mostrando come in nessuna di esse aveva trovato spianata la strada da il metodo per la verità ciascuna tentava ma senza mai raggiungere la certezza no per esempio all'inizio del paragrafo poi ve lo ritrovate voi quando parla dello studio delle lingue o dello studio della letteratura della poesia perché non è soddisfacente perché le poesie raccontano favole e le lingue sono dei mezzi espressivi che non dicono ancora niente rispetto alla verità non basta conoscere il latino bene per poter cogliere ciò che è vero e e viceversa come dice lo cito verso il decimo rigo e si può conoscere la verità anche parlando il basso bretone che so il il bitontino non lo so o il salentino stretto cioè non basta una lingua per darti la verità e viceversa la verità può essere espressa anche in dialetto quindi poi passa appunto senza sapere di retorica cioè dell'arte dell'eloquenza non basta l'eloquenza per giungere alla verità ok certo dire in maniera retoricamente felice la verità è meglio che dirla male ma non è che è verità perché la dici in maniera elegante si capisce bene poi parla delle matematiche e questo è interessante perché dice mi spiace fare io il riassunto ma devo leggere altre cose perché dice le matematiche mi attiravano per la loro per il loro rigore no ma erano insegnate almeno nel collegio di La Flesch come delle arti dei saperi ausiliari cioè che servivano per altre scienze come per l'arte della navigazione l'ingegneria o la balistica cioè l'arte la scienza che studia la traiettoria dei proiettili no e dice mi sembrava quasi sprecato il rigore delle matematiche per essere sottoutilizzato solo come uno strumento ausiliario per il sapere per dare l'esattezza al sapere poi fa le ultime tra le ultime parla anche della giurisprudenza della medicina però si comprende come lo studio della legge no della legge del corpo sociale e lo studio delle leggi del corpo fisico della fisiologia no sono anch'esse delle arti applicate che non mi danno ancora chiarezza su quale metodo seguire è confuso per esempio la medicina è un'arte molto empirica no infatti anche da noi si dice la medicina non è una scienza è un'arte cioè che ha dei principi naturalmente da rispettare ma molto spesso dipende dall'anamnesi che tu fai su un corpo particolare e lo devi capire perché devi avere un'abilità di sguardo oltre che di sapere di tatto bene e così pure la giurisprudenza deriva dai regimi politici dagli usi dei costumi credo che lo si capisca e quindi si approssima la verità del suo ambito ma non ci dà la scoperta di una verità assolutamente certa rimangono due scienze e queste sono le più interessanti la teologia e la filosofia perché anche esse erano studiate al collegio della Flesch e per quanto riguarda la teologia Cartesio dice qualche cosa che un po' un po' costituisce un un canone per tutta la sua epoca in qualche maniera o per gran parte della sua epoca pensiamo a quello che abbiamo detto ieri di Galileo e cioè che la teologia non è una scienza teoretica ma è una scienza pratica cosa vuol dire? che la teologia è un sapere che non ci dice niente su come è fatto il mondo su come è fatta la natura in questo senso non è una scienza teoretica ma è una scienza pratica perché ci suggerisce che comportamento di vita assumere per guadagnarsi la salvezza appunto non ci dice lo anticipavo ieri la teologia come va il cielo cioè le leggi della natura il cielo inteso in senso astronomico no? ma ci dice come si va al cielo cioè come che tipo di vita dobbiamo scegliere per meritare il cielo in questo caso non è più i pianeti ma il paradiso la salvezza è un termine simbolico per dire la salvezza e quindi la teologia è molto come vedete anche la soluzione che lui usa è diciamo abbastanza equilibrata abbastanza non vuole sbilanciarsi una volta parlando di sé Cartesio ha scritto larvatus prodeo segnatevelo facciamo anche lezione di latino larvatus prodeo che significa procedo procedo mascherato con una maschera non voglio scoprirmi naturalmente questo larvatus prodeo riguarda il procedere e riguardo alla teologia soprattutto no? non riguardo al metodo lì non c'è maschera anzi ma poi c'è appunto la condanna di Galilei non vuole pregiudicare con motivazioni di tipo teologico religioso le sue analisi filosofico epistemologiche poi parlerà di Dio e come se ne parlerà ma lo vedremo la prossima volta rimane la filosofia beh dai ragazzi almeno la filosofia è tradizionalmente la disciplina che aiuta a cercare la verità no perché per una questione molto empirica perché dice in maniera anche un po' ironica Cartesio su nessuna questione filosofica io ho mai trovato l'accordo universale tra tutti i filosofi anzi sulle questioni più ardue c'è una permanente disparità di vedute quindi la filosofia non ci serve perché almeno ci serve certo ma così come è stata fatta finora non ci serve perché non ci porta direttamente straight direttamente alla verità da questo punto di vista mi ha sempre colpito da quando ho cominciato a studiare queste cose chiudi perché che era molto più diciamo univocista rispetto alla verità Cartesio che gli autori scolastici suarets scrive l'abbiamo visto insieme un'opera che si chiama discussioni di metafisica disputazione sdispute di metafisica perché perché nel metodo scolastico ve lo ricorderete c'è proprio questo procedimento che su ogni questione si devono esaminare tutte le teorie e si deve cercare di comporre il dissidio e non sempre ci si riesce e quando non ci si riesce si dice che ci sono più vie per raggiungere una stessa verità mi seguite? per Cartesio no quindi da un certo punto di vista sembra molto più diciamo dogmatico dogmatico non nel senso ideologico ma dogmatico nel senso che dottrinalmente diciamo orientato in un senso unidirezionale molto più dogmatico Cartesio rispetto a quelli che appunto lui rifiuta gli scolastici e gli rifiuta attenti bene Cartesio rifiuta e gli scolastici non perché per la loro dottrina ma per il loro metodo perché il loro metodo sarebbe ancora troppo disputativo e allora come se ne esce e è come tutti i road movie americani se ne esce così leggiamo la citazione alla fine della prima colonna di 130 ecco perché non appena l'età mi permise di uscire dalla tutela dei miei precettori abbandonai interamente lo studio delle lettere qui lettere non è semplicemente della letteratura lettere del piano di studi del percorso del collegio è risoluto a non cercare più altra scienza che quella che potessi trovare in me stesso o nel gran libro del mondo impiegai il resto della mia giovinezza a viaggiare a vedere corti e armate a raccogliere esperienze diverse a mettere me stesso alla prova delle diverse occasioni che la sorte mi offriva e a riflettere in ogni circostanza sulle cose che mi capitavano in modo da poterne trarre qualche profitto quindi parte va zaino in spalla si sarebbe detto va per cercare di trovare no nel mondo o in se stesso una indicazione circa un sapere che fosse realmente certo e che per questo potesse essere utile alla vita comincia dal gran libro del mondo e poi racconta racconta che appunto va in diversi posti ma di volta in volta incontra usi e costumi diversi visioni del mondo diverse ma non trova risposta alla sua ricerca di certezza e qui varrebbe la pena anche se poi lo vedremo meglio domani tenere sempre presente ragazzi il il doppio registro dei due termini certe verità e certezza le due cose sono affini tra di loro ma non sono sinonimi perché perché la verità potrebbe anche non essere certa rimane una verità la certezza che cos'è è il fatto che io mi accorga che quella è una verità quindi è una verità riconosciuta con una certificazione individuale personale ok tant'è vero che si dice che la verità può anche essere disconosciuta da tanti ok la verità potrebbe anche esserci ma non essere ancora stata scoperta rimane una verità ok per ignoranza o per pregiudizio alcuni non la riconoscono come verità e potrebbe anche darsi che qualcuno che certe verità non saranno mai scoperte no pensate che alcune verità matematiche no però rimangono tali la certezza invece che cos'è è una verità divenuta mia di cui sono certo questo non è che aumenta la verità ma per così dire la certifica come si suol dire la garantisce come una verità che ha dentro di sé la sua ragione ma che è riconosciuta e giustificata anche dalla mia convinzione prego sì mi ricordo il tuo nome Antonio lo dico per coloro che vedranno il video Antonio chiede ma questa interpretazione della della teologia di cui parlavo prima probabilmente risente del volontà usava questo termine di salvarsi la pelle cioè di non sbilanciarsi da parte di persone come Galilei Galilei si è sbilanciato a dire il vero no e di Cartesio guarda potrebbe anche darsi no però è più interessante Antonio Antonio vero sì è più interessante lasciare indeciso la diciamo la scaltra la scaltrezza eventuale no di diciamo parare eventuali diciamo contestazioni che poi in realtà quando il cartesianismo si diffuse soprattutto nei paesi bassi e i calvinisti accusarono di ateismo anche Cartesio quindi poi alla fine la verità esce sempre fuori no viene sempre fuori mi interessa di più perché questo è più interessante il concetto in quanto tale no che è un concetto molto mutuato anche da Lutero a questo punto c'è per quanto riguarda la bontà naturale della conoscenza diciamo non c'è non c'è c'è distacco da Lutero indirettamente in Cartesio in questo invece c'è che anche per i luterani per i protestanti la teologia è una scienza pratica cioè una scienza di tipo morale non conoscitivo e Antonio dice giustamente ma è riduttivo dire questo e la mia risposta è sono d'accordo con te cioè è riduttivo dicendo questo ragazzi sto dicendo il problema non sto dicendo come voi dovete pensare come io penso cosa è successo però se qualcuno di voi giustamente mi dice ops ma non mi tornano i conti io ti dico neanche a me molto quindi Antonio teniamo aperto il problema no perché al di là della soluzione di Cartesio rimane il problema ma la teologia è soltanto una scienza di tipo che riguarda il comportamento o ci fa conoscere le cose no beh non possiamo non essere d'accordo per esempio con Galilei quando dice che se io voglio conoscere la natura non vado a leggere la Bibbia ma ancora adesso no cioè io la posso leggere perché leggendo la Bibbia magari io ho un'intuizione prospettica del mondo no perché se leggo la Bibbia ma lo diceva anche Einstein no non si può essere scienziati senza avere uno spirito che pure non era cristiano era agnostico no senza avere uno spirito religioso cioè riconoscere che la realtà è sensata non è un caso c'è un logos ok però se io poi devo andare a studiare le leggi fisiche non vado a leggere il libro della sapienza no se devo fare quello quindi da questo punto di vista non si può non il problema è un altro la cosa perché ti stride perché per questi autori la conoscenza l'unica forma di conoscenza vera è la scienza la scienza meccanica no per questo la teologia non può che essere una scienza della morale ma questo fino a Kant e questo è un problema irrisolto nel campo di forze della modernità che direi con questa domanda ma la conoscenza solamente la conoscenza esatta di tipo matematizzante non ci sono altri tipi di conoscenza la nostra ragione conosce e quindi è certa della sua esperienza soltanto quando misura matematicamente le cose quando io dico quando io dico io sono certo che mia mamma mi ama allora uno dice sì questo qui è un tuo sentimento è una tua emozione tu dici no no come è una mia emozione questa cosa mi può anche emozionare ma sto dicendo come stanno le cose mia madre oh scegliete voi un altro esempio no cioè io conosco questo fenomeno questo tipo di conoscenza questo tipo di scoperta di affermazione è di tipo conoscitivo o di tipo puramente morale riguarda solamente il nostro comportamento riguarda anche il nostro comportamento no per esempio che se io sono so per certo che mia madre mi vuole bene cercherò di non di non dare un dispiacere che so una cosa banale no cercherò di di non tradire le sue aspettative ma è solamente questo è solamente diciamo un'esortazione o quel mio comportamento che c'è nasce da un tipo di conoscenza che io ho avuto lasciamo l'aperto Antonio bene ma tutto questo viaggio alla scoperta del gran libro del mondo lo delude come ogni road movie americano lo delude e lui alla fine arriva a dire che scopersi scoprì che forse avrei imparato di più se fossi rimasto chiuso nella mia stanza cioè le esperienze accumulate nel mondo non hanno risposto al mio desiderio ma è appunto questo la cosa più interessante perché quando lui va e dice andai decisi di lasciare lo studio di andare a viaggiare per scoprire il gran libro del mondo dice una frase che per me è talmente importante che io l'ho messa nella prima pagina di Descartes quindi andate a trovare a pagina 128 alla fine della prima colonna no lui va a lascia gli studi terminate gli studi lascia appunto lo studio delle lettere non li approfondisci ancora secondo il metodo scolastico ma va in giro anche se poi sarà deluso perché dice e avevo sempre un estremo desiderio di imparare a distinguere il vero dal falso per vedere chiaro nelle mie azioni e procedere con sicurezza in questa vita qual è la perla preziosa di queste poche righe quelle due parole un extreme desire un desiderio estremo quindi ciò che mi spinge a cercare il metodo la strada è un desiderio il vero eccita il desiderio della ragione per questo si lascia tutto e si va e perché desiderio estremo desiderio estremo qui non significa semplicemente un desiderio sfrenato no ma il desiderio ultimo cioè il desiderio più acuto più profondo più determinante di ogni altro desiderio e il fatto stesso che lui dice il desiderio di distinguere il vero dal falso cosa vuol dire distinguere il vero dal falso è solo una questione dialettica dimostrativa no dice per vedere chiaro nelle mie azioni e procedere con sicurezza in questa vita cioè il vero è desiderato non solo perché tu vuoi arrivare ad una formula che risolva il problema ma perché è in gioco tutta la vita perché la verità non è mai semplicemente una cosa astratta è una cosa che c'entra con tutto l'io per questo il desiderio estremo è il desiderio di quello che nelle lezioni introduttive di questo corso avevo chiamato il desiderio di scoprire il senso ultimo per cui ciascuno di noi è al mondo questo è il desiderio estremo per questo lui dice mi ritirai nella mia ritornai in me stesso e poi descrive anche un'esperienza in cui diciamo lui in una in una stanza riscaldata no quelle che si chiamano appunto le stube no senza avere nessuna distrazione dal mondo come essendo ad un punto zero della strada ha un'intuizione che cambierà la vita ed è l'intuizione appunto delle regole del metodo che vedremo insieme domani grazie grazie